Ciao a tutte ragazze, nuova nell'arte ispirata alle rose bicolor, molto semplici da fare e molto veloci soprattutto. Iniziamo subito. Applico la mia base, quella della Colistar 3 in 1, con cui mi trovo molto bene in questo periodo, e ne applico una quantità abbondante su tutta la mia unghia. Applico adesso il mio color celeste della pupa, il numero 711. Faccio molta attenzione a non toccare le cuticole. E ne do anche una seconda passata, in modo da creare un colore bello compatto. Questo è il risultato una volta asciutto lo smalto con una doppia passata. Applico, prendo adesso lo smalto bianco della Kiko, che si utilizza per fare la French Manicure, e uno smalto prugna, io utilizzo questa della Maybelline, ma voi potete tranquillamente utilizzare qualsiasi tipo di smalto, di colore. E prendo due spot, uno spot da una punta molto ma molto sottile, e lo spot della Kiko, che ha la praticità di avere due diametri diversi di spot, uno da una parte e uno dall'altra. Apro adesso le mie boccettine di smalto, in modo da facilitarmi l'operazione, non avere quindi l'ostacolo di aprire e chiudere con il rischio di rovinarmi la nell'arte. Prendo il mio spot più grosso e scelgo lo smalto color prugna. Ne prendo una buona quantità e sul mio anulare traccio due puntini, uno accanto all'altra, in questo modo. Pulisco il mio spot e vado a prendere il bianco. Faccio altri due puntini da un lato e dall'altro. Riprendo il mio spot dalla punta molto sottile e pratico una circonferenza sino ad avvicinarmi al centro, creando così una spirale, che assomiglia molto a una rosellina. Pulisco sempre il mio spot e riprendo quello precedente. Ne devo creare un'altra, più vicina ma anche più piccola. Ripulisco lo spot e prendo nuovamente il bianco e traccio sempre i miei due puntini, uno e due. Riprendo lo spot della punta molto sottile e traccio questa spirale. Non contenta, adesso voglio un po' completare questa nell'arte, creando una cornice. Prendo quindi lo spot dalla punta molto sottile, lo intingo sullo smalto prugna e tra le due roselline vado a disegnare una sorta di V facendo un puntinato, in questo modo. Seguo praticamente i laterali delle mie roselline. Pulisco sempre il mio spot e prendo lo smalto bianco. Completo un po' questa cornice facendo altri puntini, sempre di colore bianco, nei terminali della mia V. In questo modo. Una volta terminato, traccio altri due puntini bianchi al centro delle mie roselline, un modo da definire ancora maggiormente questo disegno. Lascio asciugare il tutto, procedo la stessa maniera sul pollice e sigillo il tutto con lo studio nails della Essence Simil Gel in modo da rendere il tutto più sigillato possibile e più duraturo. Questo è tutto ragazze, spero vi piaccia. Un bacio e alla prossima. Ciao!